Questa notte a Castellammare di Stabia, Napoli, Roma, Pompei, Santa Maria della Carità, Quarto e Castelvoltù, due militari della Compagnia Carabinieri di Castellammare di Stabia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta dalla Procura Distrettuale Antimafia di Napoli. Nei confronti di 17 indagati gravemente indiziati a vario titolo dei reati di associazione a delinquere finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto legale di armi clandestine, anche da guerra, con relativo munizionamento e ricettazione. Il complesso delle attività di indagine ha consentito di far emergere l'esistenza di una ridicata e proficua associazione destinata stabilmente da etica al traffico e alla vendita di sostanze stupefacenti, sia droghe pesanti, in particolare cocaina, che leggere, operande nel territorio di Castellammare di Stabia, nello specifico nel rione Moscarella, con ramificazioni anche in altre zone della Campania. L'attività è interpresa nel marzo del 2017 e in seguito all'arresto di un cittadino stabiese sorpreso in possesso di un'arma clandestina, permesso di accertare l'esistenza di un'associazione armata e finalizzata al narcotraffico, che si sprefiggeva alla creazione di un terzo polo camorristico nella città stabiese, distinto ed indipendente dai due clan che storicamente si dividono e contendono la signoria sul territorio. Nella disponibilità di tale consorteria criminale vi era un vero e proprio arsenale, costituito da numerose armi, anche clandestine, da guerra, a riprova dell'ascesa e del consolidamento del sodalizzo, nelle cui intenzioni vi era il rafforzamento militare finalizzato a imporre la propria egemonia e le proprie attività illecite sul territorio. A risconto delle attività di intercettazione in un lasso di tempo di circa un anno sono state arrestate in fragranza di reato 5 persone, segnalate amministrativamente numerosi assuntori di sostanze stupefacenti, recuperate 10 pistole clandestine, 2 kalashnikov e oltre 500 munizioni di vario calibro, nonché ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti per un valore complessivo sul mercato illegale di circa 250.000 euro. Segnatamente sono stati sequestrati circa 27 kg di marijuana, 2,5 kg di hashish e 50 g di cocaina. I canali di approvvigionamento di droga per il gruppo erano vari, come è emerso nel corso delle indagini che hanno delineato diversi fornitori locali, ma anche dell'area casertana e pugliese. L'attività dei carabinieri coordinati dalla DDA di Napoli prosegue incessantemente come dimostrano gli ulteriori sequestri di armi, munizionamento e stupefacenti. Di fatti, di recenti in aree comuni all'interno del quartiere Stabiese Moscarella, sono state rinvenute e sequestrate ulteriori 5 pistole con relativo munizionamento e circa 110 g di cocaina. Al termine delle formalità di rito, 12 indagati sono stati associati in carcere, due sottoposti agli arresti domiciliari presso le proprie abitazioni, mentre un altro indagato è stato sottoposto alla misura catturale dell'obbligo di dimora nel comune di Castellammare di Stabia ed infine altri due alla misura di divieto di dimora nella città Stabiese e nei comuni limitrofi.